Carlo Acutis, la profezia shock della madre, con tanto di apparizioni. Iscriviti al canale per non perderti ulteriori video simili. Un miracolo compiuto per intercessione del beato Carlo Acutis è stato riconosciuto da Papa Francesco. Egli sarà proclamato santo, passando così dal culto locale, che è proprio dello status di beato, al culto universale che caratterizza i santi canonizzati. Era prevedibile. Molti lo hanno invocato. Il miracolo riconosciuto ai fini della canonizzazione riguarda una ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, operata per un trauma cranico dovuto a un incidente. Dalle sue condizioni disperate è uscita grazie all'intercessione del beato, invocato dalla madre. Questo giovane milanese, morto a Monza nel 2006 e sepolto poco dopo al cimitero di Assisi, è stato poi trasferito nel 2019 con i suoi resti mortali nel santuario della spogliazione. Ha bruciato tutte le tappe, privato della vita terrena a soli 15 anni. Sembra quasi che abbia preso una rincorsa verso il paradiso. Quello che ho potuto osservare ad Assisi in questi anni supera ogni previsione. Ormai migliaia di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, giungono a questo santuario che è l'ultimo ad essere stato eretto, anche se le sue radici affondano nel primo cristianesimo assisano. Il santuario coincide con il Vescovado e la chiesa di Santa Maria Maggiore, antica cattedrale di Assisi, e con il primo francescanesimo. Qui il poverello visse le prime battute della sua conversione, spogliandosi fino alla nudità per dimostrare che Gesù valeva ben più delle monete di Bernardone. Sulle sue orme, ma con uno stile tutto suo, Carlo porta lo stesso messaggio. Di famiglia benestante, amante della vita, della natura, degli animali, dello sport e del bello in tutte le sue forme, si trova, nel fiore dell'età, ad essere spogliato di tutto. Il mondo crolla con la sua leucemia fulminante. Non gli rimane che Gesù, quel Gesù che egli aveva scoperto soprattutto nella presenza eucaristica, diventandone un testimone appassionato e coinvolgente. La sua mostra dei miracoli eucaristici ha fatto il giro del mondo. Francesco si spogliò. Carlo fu spogliato. Entrambi, in due tempi e in modi diversi, additano il cuore dell'annuncio evangelico. Un Dio amore che non esita a spogliarsi della sua gloria, per farsi, nel suo figlio Gesù, uno di noi, fino alla morte di croce. Oggi, chi entra nel santuario della spogliazione, li trova entrambi all'ingresso, in un dipinto che raffigura Francesco, nella versione di Giotto, e Carlo, con la sua maglietta moderna, entrambi con un volto celeste. Un gesto li accomuna. Indicano il crocifisso e l'altare, il mistero dell'eucaristia. Indicano Cristo come segreto della vera gioia. Tutto è bello ciò che viene da Dio, a condizione che sia vissuto nell'amore di Dio. E allora la vita diventa libera, originale, non schiava delle mode. Originali non fotocopie, amava dire Carlo Acutis, con uno slogan che era un ideale di vita, riproposto oggi a tanti giovani che sostano davanti alla sua tomba. La grazia di Carlo Acutis è davvero una grazia verticale, vento e fuoco di Pentecoste, uno di quegli interventi di Dio che sono pura sorpresa, per dare alla Chiesa e al mondo un colpo d'ala. Assisi in queste ore è in festa, un assaggio di ciò che sarà il giorno della canonizzazione che speriamo non sia lontano. San Francesco disse che Carlo sarebbe diventato importante nella Chiesa. La premonizione in sogno ad Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis. Credevo fosse una piccola profezia, circa il fatto che mio figlio sarebbe diventato sacerdote. Invece mi sbagliavo. San Francesco d'Assisi aveva preannunciato in sogno a mamma Antonia Salzano, la dipartita di Carlo Acutis e la rapida ascesa del giovane verso Glialtari. Lo aveva fatto nelle notti precedenti alla scomparsa di Carlo, avvenuta il 12 ottobre 2000asei. Ne parla nel libro Il segreto di mio figlio, a cura di Antonia Salzano Acutis. Quando il figlio ha iniziato a non sentirsi bene, nei primi giorni di ottobre 2006, Antonia Salzano trascorreva le notti insieme a lui. Antonia ricorda che la notte tra il 3 e il 4 ottobre sognò di trovarsi in una chiesa. E con lei c'era San Francesco d'Assisi. Più in alto sul soffitto vidi il volto di mio figlio, un viso molto grande. San Francesco lo guardò e mi disse che Carlo sarebbe diventato molto importante nella chiesa. Quindi mi svegliai. Pensai tutta la mattina a quel sogno. Credevo fosse una piccola profezia circa il fatto che mio figlio sarebbe diventato sacerdote. Infatti, mi aveva più volte partecipato questo suo desiderio. La notte successiva, mamma Antonia Salzano dormì ancora con Carlo. Prima di addormentarsi recitò un rosario. Nel dormiveglia sentii una voce che distintamente mi diceva queste parole. Carlo muore. Pensavo che non fosse una voce che veniva dal bene, ma che fosse un pensiero cattivo e così non dia di peso. Sabato 7 ottobre Carlo si sentì male e fu ricoverato d'urgenza alla clinica De Marchi di Monza, dove aveva lavorato il suo pediatra. Fu qui che gli diagnosticarono una leucemia di tipo M3 o leucemia promielocitica. Il primario, ricorda mamma Antonia, ci spiegò con aria grave e senza troppi giri di parole che si tratta di una malattia silente e non ereditaria. E' una patologia che provoca una velocissima proliferazione delle cellule tumorali. Il caso di Carlo Acutis, insomma, era disperato. Al ragazzo non nascosero nulla. Con un sorriso lui riuscì a rimanere sereno e dire alla madre «Il Signore mi ha dato una sveglia». «Il Signore mi ha dato una sveglia». Mamma Antonia Salsano, invece, pensava e ripensava a quel sogno che da un lato la rasserenava, dall'altro le trasmetteva angoscia. Carlo Acutis amava tanto San Francesco. Per lui era come un faro. Era il santo che scelse gli ultimi e non temeva i lebrosi, gli emarginati del suo tempo. Assisi era un luogo che Carlo sentiva vicino e che frequentava con ardore. Carlo amava ritirarsi in luoghi cari a San Francesco e lì cercare il silenzio. In quel sogno forse San Francesco aveva preannunciato proprio questo ad Antonia Salsano. Il raggiungimento di quella pace che Carlo aveva sempre cercato sarebbe coinciso con una prematura di partita e un'altrettanta rapida salita sugli altari del cielo. Carlo è diventato beato il 10 ottobre 2020 proprio ad Assisi.